Senti Roberto, un'ora, avevi chiesto minuti anche in un'intervista di qualche giorno fa e anche qualcosa in più a chi si vuole giocare il posto da titolare, un'ora la stessa formazione è già una prima risposta anche da parte tua, con i fatti? Beh è chiaro che adesso più ci si avvicina qualcosina in più, anche in termini di minutaggio bisogna cercare di farlo acquisire a qualcuno, però adesso abbiamo ancora un'altra partita tra quattro giorni quindi c'è tempo e spazio, sto cercando di portare il più possibile tutti quanti ad avere una condizione la più vicina possibile a quella migliore e quindi sto ragionando in virtù di questo poi vado un po' a braccio, non mi piace programmare prima della partita questo fa mezz'ora, questo fa 40, questo fa 60 perché poi lo sviluppo della gara a volte dà indicazioni diverse infatti a un certo punto pensavo, l'idea inizio secondo tempo ad esempio era quella di togliere Ninis e invece poi ho tolto parolo perché ho visto che era un po' più affaticato aveva speso un po' di più e mi sembrava la gamba di Ninis un po' più brillante quindi ripeto, cerco di fare le valutazioni in funzione di quello che vedo Qual è stata la cosa che le è piaciuta di più? No, l'idea di voler giocare, l'idea di voler costruire, l'idea di voler essere sempre propositivi poi dopo è chiaro che non essendoci ancora quella brillantezza e quella lucidità fisica a volte qualcosa si lascia e quindi concedi anche agli avversari però stasera abbiamo concesso loro soprattutto su, come dire, un po' disattenzioni e un po' proprio questa mancanza di freschezza atletica in alcuni momenti che allora ti fa perdere la lucidità e la capacità di interpretare e di visualizzare bene quello che può essere lo sviluppo dell'azione avversaria però direi che tutto sommato sono soddisfatto insomma ci sono giocatori che chiaramente ancora devono capire un po' quelle che sono le dinamiche e certi movimenti che li possono poi aiutare però anche quelli che poi sono entrati nel secondo tempo hanno fatto delle cose grege chi più chi meno, qualcuno un po' più indietro qualcuno chiaramente per struttura e per conformazione fisica è più agevolato di altri che sono più prestanti però direi che sono abbastanza soddisfatto Il fatto che Paletta sia stato l'unico a fare i 90 minuti è un caso o è un messaggio in chiave nazionale? No, beh Paletta è un giocatore che sta bene l'ho fatto nell'ultima gara che abbiamo fatto in Cecoslovacchia non ha giocato per nulla perché chiaramente era quello che aveva accumulato più minutaggio rispetto ad altri quindi adesso ha recuperato di nuovo, aveva un leggero fastidio e l'ha smaltito e questo gli permette di potersi esprimere per 90 minuti a dei buoni livelli Ho visto che ha già utilizzato Rosi che è stato presentato oggi quando è entrato è andato a mettersi nella sua posizione abituale la corsia di destra con Biabiani a sinistra sarà un pochino questa la veste del Parma con questo nuovo innesto? Ma dipende da loro, potrebbe essere come potrebbe non essere dipenderà molto da loro chiaro che Rosi l'abbiamo voluto crediamo che possa essere una pedina importante per noi però proprio perché l'abbiamo voluto diciamo in maniera mirata adesso aspettiamo delle grandi risposte quindi dipenderà molto da lui Viste il mercato chiuso in entrata? Adesso non lo so dire questo ancora è chiaro che abbiamo ancora più di 20 giorni di tempo vediamo cosa succede qualcosa dovrà uscire senz'altro e vediamo se ci sarà ancora spazio per qualcosa in entrata ma dipenderà molto da chi uscirà Le prese solo un commento sulla copiata Tacco-Pavona-Mauri sui movimenti, sull'intesa della condizione fisica che ovviamente ancora viene Beh è un'intesa che ha bisogno di minuti ha bisogno di giocare ha bisogno di amalgamarsi ancora con il resto della squadra però la cosa che mi è piaciuta è stasera forse più delle altre gare che ci sia stata anche questa capacità in fase di non possesso parlo di riuscire a mettersi o quantomeno di cercare di mettersi in una condizione di poter poi essere nel momento in cui si riconquistava Pala subito a disposizione e a dare la proposta poi dopo ci sono sicuramente dei meccanismi che ancora vanno come dire oleati e vanno incrementati però anche poi nel secondo tempo gli altri due ragazzi che sono entrati in attacco hanno cercato di fare insomma mi piace che ci sia questa disponibilità che poi è una disponibilità che va a frutto e a servizio della squadra ma soprattutto anche mettere loro nelle condizioni poi di essere più al centro dell'azione e quindi avere la possibilità di toccare ancora più palle per un attaccante diventa importante questo Alla persona che mi sembra che abbia detto Valdessa No, queste sono cose che non voglio nemmeno considerare Valdessa ha fatto una buona prestazione si è innamorato un po' troppo della palla e questo deve migliorare è un aspetto che fa parte ancora un po' del retaggio del suo vecchio ruolo però deve sapere che in quella zona e lui lo sta facendo sta cercando di migliorare di crescere da questo punto di vista per cui non ho poi dubbi però alcune volte diciamo si piace un po' troppo è chiaro che quando tu giochi da trequartista ricevi molto meno palloni e quando la prendi devi essere più determinante per la squadra in questo ruolo invece ricevi molte più palle con molta più continuità e non è così fondamentale indispensabile che tu la palla la tocchi tante volte una volta che sei in possesso e lui questo ancora deve un po' migliorarlo chiaro che sono contento di quello che lui fa in virtù soprattutto del fatto che è un ruolo che non è da molto che sta praticando diciamo così però può ancora crescere molto No, la maglia sta sulla schiena uno non ha il tempo di vederla Forse la vera scommessa tra virgolette insomma la vera novità è questo ninis interno che tu stai cercando di far giocare in questo ruolo che magari lui non era molto abituato anche magari giocando in un altro sistema di gioco come lo stai valutando in questa posizione? Devo dire che si sta veramente applicando e sono contento di quello che sta facendo è indubbiamente un ruolo un po' diverso da quello al quale era abituato però già la dimostrazione che oggi pensavo a un certo punto di poterlo togliere di doverlo togliere invece poi la gamba e la proposta mi piacevano per cui ho voluto ancora lasciarlo è un ragazzo giovane quindi che ha tanta birra in corpo è chiaro che questo ha un ruolo che si sta un po' ritagliando per cercare di essere sfruttato di poter essere a servizio della squadra perché il nostro modulo in questo momento dice che in campo dobbiamo starci così e quindi se uno ha ambizioni diverse è chiaro che si gioca le sue carte in negativo e lui invece ha recepito subito il messaggio e si sta applicando e lo sta facendo bene direi discretamente è chiaro che deve ancora crescere però insomma è un ragazzo giovane che arriva da un altro paese abituato a giocare in un ruolo diverso e quindi sono tanti passaggi Il gol di Morrone è un saluto alla piazza o un messaggio di ulteriore permanenza? Dovete chiederlo a Morrone se vuole salutare la piazza io Morrone lo considero un giocatore del Parma e quindi sono felice che sia al Parma ha fatto un gol di ottima fattura è un giocatore che quegli inserimenti dice di A nel DNA se avesse solo raccolto il 5% di quello che i suoi inserimenti fruttano sarebbe un giocatore stratosferico però è uno di quei giocatori che insegna agli altri che cosa significa andare anche senza palla a buttarsi dentro e questo è un aspetto che noi dobbiamo ancora migliorare negli altri componenti ed è importante quindi è un esempio a posto grazie a tutti